Le decisioni in merito alle soppressioni ed accorpamenti non sono ancora ufficiali. Vanno rispettati i contenuti perché si tratta di un piano nazionale, ma le scelte saranno adottate solo dopo che il Ministero dell'Interno avrà letto e valutato il parere del Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica, frutto degli incontri che si sono tenuti tra i sindaci dei territori interessati e le organizzazioni sindacali. L'ho affermato il prefetto dell'Aquila Francesco Alecci che ha assunto l'impegno di rappresentare le istanze degli amministratori locali per un confronto democratico con il Governo centrale. Io come prefetto, non perché dovessi sostenere acriticamente quello che è stato ideato dall'amministrazione centrale, ma perché il mio compito è questo, è quello di fare leggere bene alla cittadinanza presente nella realtà provinciale, scelte fatte dall'amministrazione centrale. Ecco, è un discorso molto democratico e a me pare che sia stata questa la procedura giusta. Il disegno in provincia dell'Aquila prevede le soppressioni della polvere di Sulmona e della sede della Polizia Stradale di Casteldisangro e l'accorpamento della stradale di Sulmona Prato-La Peligna. È una scelta nazionale, in questa scelta nazionale giustamente si è preferito definire come compito dell'amministrazione una cifra individuale da mettere poi a confronto con le realtà del territorio, con le realtà sindacali della Polizia di Stato. Ecco, ci tengo a dire che non sono provvedimenti, atti determinativi già assunti, sono iniziative è una iniziativa che si realizza a livello nazionale, dove certamente sono state ideate già delle soppressioni o degli accorpamenti. Perché questo possa poi avvenire con un atto determinativo del Signor Ministro dell'Interno, è stato chiesto a tutti i prefetti nei cui territori provinciali si realizzavano queste modifiche di esprimere il loro parere. Questo i prefetti hanno fatto e l'ho fatto anche io, avvalendosi della collaborazione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alle cui riunioni è stato chiesto che partecipassero i sindaci dei comuni, ecco perché è venuto il sindaco di Castel di Sangro, ecco perché è venuto il sindaco di Sulmona. E in quella sede, naturalmente, i due amministratori di cosa hanno parlato? Delle loro preoccupazioni, di questo loro temere che la soppressione di certi presidi chiamati in modo importante, ma perché no anche reale, di legalità sul territorio, potesse comportare un abbattimento del contrasto al crimine. Sulla questione la senatrice del PD, Stefania Pezzopane, annuncia un'interrogazione al Ministro dell'Interno perché se i tagli della spending review, afferma, venissero confermati sarebbe inammissibile rimpinguare le casse dello Stato a scapito della sicurezza dei cittadini. Al contrario, prosegue, credo che i comuni dovrebbero essere aiutati per rafforzare i presidi che devono continuare ad essere un vero e proprio punto di riferimento per le comunità. Tagliare le sedi di polizia in alcune località abruzzesi è una follia, conclude la senatrice Pezzopane.